Onorevole Guidesi, ancora una volta Confesercenti lancia l'allarme sulla crisi economica che incombe sulle piccole e medie imprese, in particolare dice che negli ultimi sei anni abbiamo perso 1.600.000 posti di lavoro e la tassazione alle stelle. Lei come commenta questi dati? I dati rispecchiano l'economia reale, la situazione reale del Paese, dati allarmanti, ma oggi non servono i dati per constatare questa situazione, nei territori soprattutto al nord sono stati persi migliaia di posti di lavoro, le multinazionali scappano, noi siamo in una situazione dove non riusciamo ad attrarre nuove attività imprenditoriali, non riusciamo a attrarle per l'altissima pressione fiscale ereditata soprattutto dal governo Monti, non riusciamo a attrarle per una questione di tempi della giustizia, non riusciamo a attrarle anche perché la concorrenza di Paesi confinanti rispetto all'attrattività per insediamenti di nuove imprese è molto più forte rispetto alla nostra e hanno molto più possibilità loro rispetto a noi. Di sicuro quello che constatiamo in questi giorni è che questo governo non sta rispondendo a questa realtà, non lo sta facendo perché sta attuando solo ed esclusivamente provvedimenti temporanei, provvedimenti chiamati ponte, provvedimenti che non aiutano la struttura dell'economia reale, che non sostengono né le imprese né i cittadini e noi siamo molto molto preoccupati rispetto all'atteggiamento che sta facendo questo governo, sta tenendo questo governo, tant'è che stiamo in questi giorni affrontando anche una posizione dura. Per fare un esempio concreto, nel decreto del fare oggi non vediamo ancora nessun numero se non quelli citati a livello comunicativo da parte del governo, quello che vediamo oggi è quello che è successo ieri in Commissione Giustizia dove stanno proponendo un indulto mascherato, stanno tentando di affrontare la questione dell'affollamento delle carceri, svuotando le carceri e liberando i delinquenti. Queste sono le priorità di questo governo, noi invece pensiamo che le priorità siano altre, siano anche quelle, soprattutto quelle che dichiara Confesercenti.